Questo gioco è una cagata. In tutti i sensi parla di cessi, ci sono cose talmente strane come una granata davanti a un gabinetto, insomma è un gioco strano, nani nel lavandino pieno di sangue. Boh, o è un capolavoro o più come penso una cagata. Ecco qua il menu, premi Q se sei annoiato. Cosa succede se premo Q? Mi è uscito dal gioco. Vabbè, nuovo gioco. Loading 6. Ok. Eh mamma mia, ho due salsiccione, qua sono delle gambe fluttuanti in un water. Scusi, sto cagando. Sto cagando. Sto cagando. Sto cagando. Cosa? Ok, qualcuno ha lasciato in giro un polipo. Un polipo assassino di cessi, io non sto bene. Io adesso, questa è la mia intimità, il mio accesso. Sei in un bagno in un party del 2008. Ma questo gioco è il triple lsd per forza. Tentativo numero uno. Ok, non distruggere i gabinetti. Sono un Gabby. Veda un po' lei. Prova a premere F. F. Sembra che ci sia qualcuno qui. Sono the one who knocks. Apri. Vabbè, non apre. Qui? Questo è l'unico aperto. Cosa succede se mi siedo nel cesso? Meglio chiudere la porta. Nei miei sogni, nei miei incubi c'era... Capitolo uno. La mano. Premi C per piangere. Cosa succede se... Noi amiamo i nostri clienti. Quattro stelle su cinque. Cagherei ancora. Ok, ha bisogno della carta igienica sto tizio. Vuole... La prenda. Va bene, potrei dargliela, dai. Prego. Premi C per piangere. Cosa succede se piango? Oh, sono costipato. Magna allo stomaco. Aspetta, cosa mi ha messo lui? Non lasciare il posto. Ma non so leggere io. A questo punto esco. Non importa. Non ascolto quello che mi dici. Io esco. Me ne vado. Cosa c'è qui? Fallo uscire. Cosa vuol dire fallo uscire? Devo far uscire il tizio di fianco al mio cesso? Cos'è sto gioco? Perché? Fuori di qui. Lo so che sei qui. Cosa c'è scritto qua? Non mostrargli la carta igienica bagnata. Devo forse bagnare questo foglietto? Prova a premere F. Ok, l'ho bagnata. L'ho bagnata. Tieni sta lattina. Ecco, pulisciti con quella. Prego. E qui non c'è niente. Ma che devo fare? Ho perso il mio penarello magico. Puoi saltare con spazio. Va bene. Qua c'è un'altra cosa. Loro ti stanno servando! Oh! Mi vedono! Hanno messo le mie gambiette con le chiappette fluttuanti! No! Stalker infami! No! Capitolo 2. Il ventilatore. Aiuto. Io volevo solo fare una cagata in pace. Invece sta facendo un sacco di cagate. Ventilatore. Questo è il ventilatore. Che sta succedendo? Secondo me succederà qualcosa da poco. Ho poco tempo. Tic. Tocco. Sta per arrivare qualcosa! Aiuto! Aspetta, c'è una granata! C'è una granata. Oh! Cos'è quello? C'è un cacchio di polpo nel mio bagno! Tira la granata! Mi difendo con questo! E niente! Vivono strani esseri nell'acqua del mio bagno, direi. Oh, cavolo! Sono stato strangolato da un tentacolo gigante finale 6 di 12! Quindi ci sono molti più finali! Ok, dobbiamo trovarli tutti! No, 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 io adesso voglio tentativo numero 2. Allora, prima cosa devo andare in bagno. Poi devo cagare. Questa è la regola. La torta è una bugia! The cake is alai! Uccidilo! Dalla ministra... Perché devo ucciderlo? Perché devo dargli una granata? Quindi, se gliela do senza però niente, cosa succede? Perché posso fare delle scelte. Gliela do senza niente. Sì, è una granata. Però è la pace fist run, quindi non ti ha ucciso. Ah, potresti distruggere il muro, dice. Grazie per avermi la ridata. Quale muro? Quale muro potrei distruggere? Ok. La lascio qui. Ah! Mi sono suicidato! Un secondo non sono durato! Finale numero 3. Sono stato buttato fuori per sempre da sto posto. E chi ci vuole tornare? Ah! Riproviamo. Zero stelle su zero stelle. Avete visto questo uomo? È un criminale di guerra. Perché, Squid? Squid, come ti hanno ridotto, mio amico? Devo andare avanti con la mia strana epopea. Prenditi cura di lui! C'è un nano là dentro! Loro stanno guardando di nuovo. Allora, io userò questa granata... Qui dentro! No! Tieni sta granata appena tirata fuori. Ah! Ho ucciso il mio partner! Ora il mistero del posto non sarà mai risolto. Ah! A parte che non c'è neanche una porta per uscire dal bagno. Se salto davanti al successo, mi dice... Non puoi sbirciare! Non da questo angolo. Non posso essere fermato! Non... Oh! Mi sa che posso! Mi sa che... Mi sa che... Mi sa che possa essere fermato! Mi suicido! Mi faccio saltare in aria! Oh! Finale numero due! Mi sono suicidato! Adesso il mistero di questo posto non potrà essere risolto. E niente, mi sono suicidato dalla granata. Però mentre il tentacolo mi stava prendendo, quindi ho preso un altro finale, credo. Quale muro devo distruggere? Non ha un senso! Boh, io la provo a mettere lì! Ok! Sì! Ho rotto il muro! Fai finta che qua ci sia un muro e entra nel nulla! Che vuol dire? Ok! Capitolo 3, lascia! Sì! In caso di emergenza è da utilizzare sulle porte gialle! Vabbè, ci sono dei meme alla parete che non capisco. Questa è una porta gialla! Oh! Fermo! Sono morto! Sono scivolato sulla banana che c'era per terra prima! E sono morto! No! È un altro finale stupido! Eh, ho bisogno dell'ascia però! Ah, ok! L'ho presa! Sì! Distrugge le porte... Stiamo attenti alla banana assassina! Non fare la danza del Joker! Non riuscivo a trovare altre regole ma volevo... ...veramente mettere un meme sul Joker! Quindi l'ho messa! Va bene! Eh, tasto destro possiamo rompere le porte gialle? O no? Ah, possiamo... Ah! Capitolo 4! C'è una brutta scritta sul muro! Ho paura adesso! Questa festa fa schifo! C'è un codice 9 verde sullo scheletro! Il peggiore bagno nella Scozia! E qua è pieno di numeri! Aiuto! Come faccio a capire quale numero devo mettere? Se non sta attento tornerà il tentacolo! Comunque abbiamo un numero! Posso tornare dal nano? No! Prenditi cura di lui! Nano! Vieni gnommato! Ah! Mi ha gnommato! Tasto destro per venire gnommato! Sono un gnome! Sono un gnome! Mannaggia gli gnomi! Mannaggia gli gnomi! Ok! Ho rotto la porta gialla! Adesso si poteva rompere così! Bene! È diventata gialla! Non verrò più gnommato col cavolo! Ehi gnomo! Vieni qua gnomo! Stai qui! Dammi una mano! Mi aspettavo delle mura! Eeeh! Occhio alle banane! Non voglio morire! Cosa succede se vado qui? È tutto buio! Ci sono dei numeri! E io come... Ah! Ok! Check! Ah! Check! Ah! È scacco! È sempre scacco matto qui! Cosa vuol dire? 3? Che uno dei numeri è 3? Tipo 2? Questo è 9? Questo è 9? Questo non lo so! Hanno dei colori i numeri! Boh! Io mi porto l'ascia! Ehi gnomo! Qua c'è anche un bagno tipo buio! Eh! C'è un numero 1! È giallo! È giallo! Lo vedo! Quindi... In teoria... Vedi? 2, 1... Il tempo in teoria è scaduto, però... Io sono già uscito... Non è un problema! Vuoi la mia ascia? Eh? Che ci devo fare? 5! Ok! Ne ho trovato! È importante! 5... 9... E ne manca uno! Che è quello giallo, ma... Ok! Io devo rimanere nella spazzatura! L'ho trovato questa nella spazzatura? Vabbè, lo rimetto nella spazzatura, allora! Uccidilo! No! Prenditi questa! L'ho ucciso con la granata! Non prendertela con me, inutile idiota! Ah! E ci ho fatto il sushi! Non credo che questo sia riso! Ci ho fatto il sushi! Puoi mangiarlo? Non lo so! Ha dei numeri? Qui possiamo sistemare? Premi F! Ok! Non sono così stupido di riprovarlo! Vero fulminato! Devo ripararlo! Come ci metto questo? Carta igienica, ovviamente! Per ripararlo, no? Sono morto! No! Fine numero uno! Mi sono suicidato! Adesso il mistero del posto non può essere risolto! Dai! Abbiamo trovato un finale, almeno! Volevo riparare sta roba! Loading 6! Ecco cos'era il loading! Era un numero! Ce li ho tutti, allora! Ora si è riparato, però! Chi l'ha sistemato? Io? Oh! Ma vaffanbrodo! Sono stato... L'avevi detto che era sistemato! Sono stato bruciato dall'esplosione dell'asciugamani! Ah! E questa volta cosa c'è scritto? Mi dispiace per la scorsa volta, ora è sistemato! E abbiamo un cacciavite! Per cosa posso utilizzarlo? Forse per... Sì! Posso aprire le robe! Avevo visto anche un vent nel mio bagno! Vediamo se posso... Devo farci qualcosa? Non lo so! No! Non posso! Però ho la granata subito! Quindi volendo non devo fare tre ore tutto quello che abbiamo già fatto! E posso già andarmene, in teoria! Bene! Bene, bene, bene! Vieni qua, gnomo! Adesso in teoria so il finale! Era 2... 1... 5... 9... 6... E questo proviamo a caso! Check! O forse questo è 6 e questo è 1! Sììììì! Erano da invertire! Ho sbloccato la porta! Gnomo! Andiamo! Possiamo scappare da questo bagno infernale! Vieni con me! Dove sono? Capitolo 5, festina al bar! E questo è tutto! Sono tornato al party Cosa vuol dire che sono tornato al party Era un cavolo di party Ehi guardate ragazzi Sta facendo il planking Ma non ho capito niente Cos'è sto party A cosa ho giocato Ti darò una finale in più Finale 12 di 12 Sono scappato con il mio amico È stato tutto un sogno Ok Quindi Ed è finita Posso andare in giro se voglio E premo Q per uscire dal gioco E se vado per di qua No non posso uscire Ok ho rifatto il finale Vediamo se ci vado al party Senza gnomo Cosa mi da Sono al party Sono senza gnomo Ah e adesso mi ho preso il finale 11 di 12 Sono tornato al party Ma è stato tutto un sogno Ma senza l'ognomo Wow Tentativo numero 12 Adesso c'è una porta Posso andarmene Non posso lasciare il bagno Devo Io voglio andarmene Aspetta Aspetta fa la canzone Boom boom Ciao We we run Rock you Rock you We we run Si Ho fatto qualcosa Io ho notato che se lancio delle cose al mio vicino Lui si incacchia Vediamo cosa succede Prendi questo Grazie Non farlo di nuovo E io continuo Sono malvagio Smettila Smettila Prendilo Prendilo in testa Smettila E io continuo Si è talmente arrabbiato Che è uscito E mi ha spaccato L'anca mi ha spaccato Mi ha spaccato l'osso del sedere Mi ha ucciso No Ma che cattivo Selvaggio Ok C'è un finale che devo fare Prima devo andare nel bagno Adesso Sedermi Cacare Ah La peperonata La peperonata Mi fa piangere Chiudo Chiudo Tiro fuori Ehm Salgo Me ne vado E apro Si Finale numero zero Ho lasciato il bagno Senza distruggere Il cesso Vai Oh Credo che li ho fatti tutti Wow Wow Che gioco strano Veramente Non so cosa ha giocato Però almeno era originale Nella sua stranezza Veramente Non aveva Nulla aveva senso Qui Nulla Città di Bosto Sto cercando di capirci Qualcosa Ma non so Fatemi sapere Se ci avete visto Qualche senso voi Vabbè Dai Questo era Il gioco di cacca Spero vi sia piaciuto E spero di potervi giochi Non di cacca La prossima volta Eh Ragazzi